Buongiorno a tutti, sei al canale Anire Tarou, io sono Anire e noi qui parliamo di amore, di solito E adesso avremo un variante solo, io voglio iniziare subito, ora vediamo come sta il nostro uomo, le sue energie, cosa pensa, se pensa a te e cosa prova Concentrati, immagina il viso, sua voce, pensa a lui insomma E noi iniziamo, energie, energie di sole, o lui si sente sole oppure ora sta pensando a se stesso, ora vediamo Qui vedo che è stato un periodo di crisi Si parla di amore, di una notizia, o un'azione che le ha portato a questo cuore spezzato con tre spade Come si sente ragazzo? Quarta carta ma io già vedo Ecco, non sta bene, c'ha il peso sul cuore e qui si tratta di emozioni, di amore Le sta facendo male la situazione in cui lui si trova adesso? Sta aspettando notizie? Oppure sta programmando azioni verso la donna, verso donna che ama Vediamo se sei tu questa donna Chiedo subito, cosa prova? Cosa prova per la ragazza che sta guardando questo video adesso? Cosa prova? E me lo immaginavo, se no non veniva questa carta Allora, cosa prova? Prova amore Se è la donna più importante della sua vita, oppure anche magari se è sua moglie, se è imperatrice comunque Se è la donna che ama, la donna che ha preso il suo cuore Però qui avete litigato, avete deciso di lasciarci, non so chi è di voi Posso pensare che è lui Che la... comunque magari Iniziativa Era sua, però decisione è tua Comunque qui vedo che C'era qualcosa Magari avete litigato Magari ti ha detto qualcosa di molto brutto Che ti ha ferito E tra voi ho crisi oppure separazione adesso Però tutto questo li sta facendo male Lui sta male adesso Ok, è logico Se stai guardando questo video vuol dire che C'è successo qualcosa Quando siamo felici non importa niente Di video, di internet Siamo felici e basta Ok, adesso voglio vedere cosa lui sta pensando A cosa sta pensando proprio E poi chiediamo se pensate A cosa stai pensando A cosa stai pensando Aiaiaiaiaiaiai Allora, non lo so Se voi sapete Tu lo sai Parliamo così di solito mi guardo solo una persona non un gruppo di persone e per me è molto più facile dire così allora se tu sai che c'è un triangolo amoroso allora lui pensa a questo pensa a questo triangolo amoroso, amoroso, capisce che non va bene così, non può più andare così sente, si sente veramente male, quei sensi di colpa, incubi sente, può essere anche un po' depressivo con queste carte se non c'è triangolo amoroso vuol dire che a lui prendeva troppo la leggera questa storia troppo come per divertimento, come divertimento, è un pochino esagerato e adesso si pente, come si dice, come si dice, sta pentendo, come si dice, scusate, avete capito io penso, scusate, allora che non lavorava in questa relazione lui ora si rende conto che, se non c'è triangolo amoroso, si rende conto che doveva dedicarsi più a questa relazione alla stabilità a cosa sta pensando? sta pensando alla sua casa, alla sua stabilità, alla sua famiglia anche se non sta insieme, non c'è la convivenza, comunque la sua vita stabile se era una relazione seria, è questo allora, e può essere un'altra cosa, qui, che sta pensando, per chi non sta insieme, per chi proprio questa terza variante sarà che sta pensando al lavoro, o studi, se un studente, per esempio, sta studiando ha fatto qualcosa, ora ci sono conseguenze, ha sbagliato qualcosa, per la sua, tipo come per la leggerezza che ha preso troppo un leggero e ora ha sbagliato e adesso se ne ha pentito se ne pente, madonna, non riesco a dire ok, queste cose lui sta pensando in generale, cosa ce l'ha nella testa adesso voglio vedere cosa pensa di te, di te che stai guardando questo video racconta, cosa pensi di ragazza, oh come carte vogliono parlare, proprio saltano cosa stai pensando, cosa pensi di ragazza che sta guardando questo video allora, lui sta pensando che non ti vuole perdere, che sei la sua felicità si vede che adesso come si sente male, è pesante, vuole sentirsi leggero come prima vuole felicità, tranquillità, amore, quello che avevo prima lui sta pensando a te, si, sta pensando e sta pensando che deve agire che deve combattere e ora voglio chiedere, lo farai? lo farai? azione come sempre, madonna, vuole agire e alla fine niente no, non lo farà, per il momento non lo farà come, se tra voi è stato troppo se si litigavate tanto, se non era tranquillità, lui ora vuole riprendersi vuole un pochino stare da solo trovare la pace, l'equilibrio suo qua vedo che lui come in posizione di difesa sta proteggendo il suo cuore oppure non ha possibilità di esprimere i suoi sentimenti nei tuoi confronti si sente legato, può essere che anche l'hai bloccato tu oppure c'è qualcos'altro che, ci sono altri ostacoli e lui non può o non vuole dimostrare i suoi sentimenti veri perché i sentimenti qui ci sono ora voglio prendere un'altra carta e sarà molto più chiaro si, per il momento lui, qui penso che questi ostacoli saranno nella sua testa più che altro perché Angelo, qui vicino, dice che non è così male come lui sta immaginando può essere che la situazione è molto più facile di quello che immagina lui e si può risolvere si può risolvere però lui adesso sta aspettando cosa aspetti? cosa aspetti? ah, decisione lui sta aspettando che qualcuno gli mandi una risposta per prendere una decisione per partire ah, per poter andare allora sì, lui ecco, mi salta proprio saltato dalla mano non c'è dove mettere questo è un commento a quello che volevo dire dopo lo leggo allora qui lui sta lui vuole agire lui vuole però qui come sta aspettando una spinta cosa deve capire qualcosa non so cosa e poi si lui vorrebbe andare tornare a casa qui proprio vengono due carte tornare a casa casa magari anche ripeto anche non siete se non siete in casa insieme non convivete tu sei sua casa e qui volevo dire questo e mi sono saltati queste carte che io voglio commentare adesso ok lui tu gli manchi tanto e lui si sente molto triste perché tu ti sei chiusa lui non sa niente di te sei un mistero ma un mistero che lui non vuole perdere ti deve prima scoprire capire bene e dopo perdere no comunque sei molto sei molto preziosa molto importante per lui ma lui non si capisce fino al fondo lui non ti ha non ti ha capito ancora e ce l'ha tantissimo tantissimi dubbi melanconia questo era come un commento scappato proprio dalle carte ok abbiamo visto questo adesso io voglio vedere un pochino se lo sapete no che destino non esiste io dico sempre ok io oggi come oggi voglio vedere se andrà così con me se c'è un futuro o non non vabbè non è così cosa aspetta la vostra relazione cosa aspetta non è così però lo sapete che si può sempre cambiare però lo sapete che si può sempre cambiare ora vedo questo un giorno domani qualcosa succede ok se andrà tutto con me cosa aspetta questa relazione lui ha tanta paura lui allora lui vuole venire da te lui sta sognando sta pensando a te ma può essere che siete anche lontani adesso o sei mentalmente lontana fredda non sei chiusa proprio sembra che ora se lui si avvicina tagli la testa però lui sta pensando come fare per riuscire come un vincitore qui l'uomo ha paura di lui lui ha paura che lo puoi buttare giù dal piedistallo le puoi togliere la corona proprio lui ha paura di questo e per se abbiamo chiesto cosa sarà lui verrà lui verrà ma con qualcosa di con un gesto con con qualcosa per rimanere comunque stella nei tuoi occhi non vuole umiliarsi se tu stai aspettando che lui viene ti chiede scusa scusami io ho sbagliato qualcosa non sarà qui vuole lui proprio sta aspettando queste due carte lui sta aspettando il momento giusto per poter manipolare questa situazione tra di voi per poter agire ma come un vincitore senza perdere la dignità sono i suoi pensieri non sono i suoi pensieri però con questo che mi ha detto prima vedo 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 che che sarà così ok e adesso voglio chiedere te che deve fare in questa situazione e voglio proprio chiedere alle carte te cosa deve fare deve aspettare cosa deve fare allora devi smettere di fare la guerra qui proprio guerra fredda fredda guerra a distanza può essere che lo stai controllando nei social se non lo vedi sei lontano e le carte dicono di smettere perché più lo fai più ti senti più senti fredda abbandonata cosa consiglio una carta non ti deve sentire come come questa come dire povertà di sentimenti che non ti vuole questo non deve pensare perché ti vuole sei il suo mondo devi smettere di perché questa carta è come una ti amo e ti odio devi smettere di più leggera ecco più leggera e mi viene questa carta lui lui ti ama sei sei donna amata smette di fare la guerra le carte dicono scusa ma proprio così vedo qua ora mi viene da dire però voglio conferma di carte ecco consiglio smettere di fare scandalo scandalo di litigare un pochino tranquillizzati vedi come vandranno le cose come esce dal gioco così guarda da fuori e qui viene la carta di giustizia questa situazione si risolverà in modo giusto ognuno avrà quello che se l'ha meritato così dicono le carte tipo tranquilla comunque sia qual processo è iniziato e la cosa non è ferma la cosa si risolverà in modo giusto per tutti così dicono le carte ok adesso vuole chiedere anche consiglio che per finire chiediamo consiglio di angeli e potrete andare pesami ok ora consiglio consiglio per la ragazza consiglio consiglio se ci credi davvero consiglio consiglio un atteggiamento positivo e visualizza il risultato in cui speri metti da parte la negatività e il pessimismo e sfodere un atteggiamento solare la legge dell'attrazione ci porta ciò che ci aspettiamo di ricevere se abbiamo la percezione di meritare cose meravigliose attraremo felicità se invece cadiamo nel dubbio e smettiamo di credere nel nostro valore le esperienze che viviamo rispiechiano questo tipo inferiore di energia credi in te stesso e nei tuoi amati sogni ma proprio quello che hanno detto anche i tarocchi ecco consiglio bisogna stare positivi mi chiedono spesso ragazzi fare passo fare passo no non fare ora potete essere arrabbiati con me come volete ma una donna non deve fare passo prima sì si può fare il passo se è sbagliato è veramente di grosso questo sì ma di solito no si può provocare azioni di un uomo e come farlo diciamo un po' streghetti tutti quando chiediamo all'universo una risposta la risposta all'universo sempre ti la montrerà questa risposta e se volete sapere come agire come comportarsi come comportarsi mandati la domanda all'universo e riceverete così prima di andare a dormire potete pensare alla vostra domanda e dopo il prossimo giorno durante la giornata la risposta arriverà ok ho parlato tanto grazie che siete stati con me mettete like commentate mi raccomando e ciao a presto